La crisi è dura, il lavoro è sempre meno stabile e le nubi sul futuro non invogliano certo a spese impegnative, ma il mattone tra alti e bassi resta sempre il bene più amato e desiderato. Di questo e del panorama immobiliare, in particolare in Puglia, si è parlato a Bari in occasione di un incontro organizzato dal gruppo Tecnocasa. Il panorama immobiliare in questo momento vede prevalentemente un mercato che è diretto più sulla prima casa, prevalentemente si definiscono compravendite legate alle permute, c'è meno aggressività da parte degli acquirenti, c'è molta più disponibilità da parte dei venditori. Il quadro pugliese è mediamente in linea con il nazionale, noi abbiamo un mercato leggermente più sereno se vogliamo perché l'attenzione alla casa è molto più forte, diciamo che il pugliese come il meridionale in genere è molto più legato alla proprietà. Sul dilemma mutuo fisso variabile il consiglio dell'esperto è chiaro, non farsi abbagliare le illusioni del momento e scartare le tipologie di finanziamento troppo complesse. Statisticamente il tasso variabile, contrariamente a quello che si pensa comunemente, risulta più conveniente nell'arco della durata dell'intero mutuo, cioè il montante finale dopo 30 anni molto spesso è più basso di quello a tasso fisso, ma in questa fase di grande incertezza non bisogna trascurare anche la soluzione fisso. Un consiglio comunque è scegliere le soluzioni più semplici possibili, o fisso o variabile. Troppe architetture sui mutui portano poi alla fine a una perdita economica da parte dei richiedenti.